ciao e ben ritrovati sul canale oggi parliamo di cyber security o meglio chiederemo a chat GPT di scriverci un piano editoriale con l'obiettivo di voler realizzare un ipotetico blog che appunto tratti argomenti di cyber security infatti gli ho chiesto vorrei aprire un blog che tratti di cyber security mi potresti creare un piano editoriale composto da almeno 30 titoli di possibili articoli da trattare 30 perché sto supponendo il piano editoriale di un mese quindi solitamente il piano editoriale per un blog viene fatto di mese in mese così che ogni giorno possano essere pubblicati degli articoli ogni giorno oppure se uno vuole due volte a settimana tre volte in base appunto a cosa è stato a come è stato strutturato il piano editoriale in questo caso gli ho chiesto almeno 30 articoli 30 titoli di possibili articoli e su ognuno degli articoli per una piccola e breve descrizione di cosa tratterà l'articolo mi viene risposto certo ecco un piano editoriale composto da 30 possibili articoli che trattano di cyber security quindi iniziamo ad analizzare questi titoli introduzione alla cyber security una panoramica sulle minacce informatiche e come proteggere i dati quindi mi sembra molto coerente cosa sono i virus informatici come creare una password sicura la crittografia e il ruolo nella protezione dei dati quindi anche la correlazione è corretta tra crittografia e protezione dei dati il phishing quindi una minaccia molto attuale come proteggersi la protezione della privacy online il dark web che cos'è un ransomware e come prevenirlo come proteggere il tuo dispositivo da attacchi e intrusioni la sicurezza delle dispositive iot il cloud computing le vulnerabilità di sicurezza nei sistemi informatici sì la protezione dei dati personali anche questo pensiamo al gdpr e tutti i vari standard e regolamenti la protezione delle informazioni sensibili e così via cioè io sto scorrendo adesso molto veloce perché sono 30 comunque da notare che innanzitutto me ne ha scritti esattamente 30 e quindi come gli avevo richiesto e poi mi sembrano tutti molto molto pertinenti la sicurezza delle criptovalute la protezione dei dati durante il backup e quindi tutti argomenti assolutamente inerenti alla cyber security a questo punto cosa gli ho chiesto di scrivere il primo articolo quindi supponiamo appunto di voler di aver messo su il nostro blog di avere adesso quindi un piano editoriale dobbiamo sviluppare ognuno di questi 30 titoli partendo dal primo scrivi il primo articolo di almeno 200 parole e completamente ottimizzato per la seo seo sta per search engine optimization quindi l'ottimizzazione sui motori di ricerca e a cosa serve a far sì che il nostro articolo venga indicizzato correttamente da google principalmente e che sia preferibilmente nelle prime pagine poi gli ho chiesto anche di utilizzare una farm una formattazione adeguata utilizzando il corsivo il grassetto il sottolineato ho provato allora la formattazione non me l'ha fatta non la vedo non ho provato a chiederglielo oltre in ogni caso mi interessava più l'ottica seo quindi come si può vedere innanzitutto chat gpt inizia la scrittura dell'articolo introduzione alla cyber security una panoramica eccetera la cyber security una preoccupazione sempre più importante in un mondo che sta diventando sempre più connesso con la crescita delle attività online e l'utilizzo sempre più diffuso di dispositivi digitali la sicurezza dei dati delle informazioni personali è diventata una priorità per molte persone e così via le minacce sono molteplici in costante evoluzione l'importanza della cyber security e dei suggerimenti utilizzare un software antivirus affidabile e mantenerlo aggiornato creare una password sicura stare attenti alle mail di phishing attivare la crittografia limitare la condivisione di informazioni personali online di qui mi sembrano tutti molto corretti in sintesi la cyber security una preoccupazione importante in un mondo sempre più connesso e ok a questo punto mi sembravano non sapevo quante parole fossero gli ho chiesto 200 parole quindi gli ho chiesto quante parole sono quest'articolo contiene circa 328 parole perfetto anche più di quelle che gli ho chiesto a questo punto gli ho un ulteriore richiesta puoi riscriverlo utilizzando un tono più personale più scherzoso e simpatico e lui mi scrive cyber security un amico che ti salva la vita digitale ciao amici quindi notare già il cambiamento di tono siamo in un'epoca in cui sempre in cui siamo sempre più connessi di conseguenza sempre più esposti a menacce informatiche sì sto parlando di quelle cose spaventose quindi notare anche la terminologia spaventose ma non speriamo c'è un eroe che può salvare il giorno ed è la cyber security immagina di essere un film d'azione c'è un cattivo che cerca di rubare i tuoi segreti ma c'è anche un eroe che ti protegge che è pronto a combattere contro il male in ogni momento ecco la cyber security è il tuo eroe digitale vedete come è cambiato lo stile e poi i suggerimenti proteggiti con un software antivirus affidabile è come avere un'armatura digitale crea una password che neanche che nemmeno il più astuto hacker riuscirà a indovinare quindi assolutamente il il tono è cambiato a questo punto una parte per me molto importante è scritto in ottica seo sì questo questo testo è ottimizzato per la seo ma con un tono più personale scherzoso in particolare ho incluso parole chiave come cyber security molto bene e protezione dei dati online in modo naturale in modo che non si verifichi quel fenomeno chiamato keyword stuffing ovvero la ripetizione della keyword troppe volte all'interno dell'articolo perché ci penalizza google se si accorge di questa e si accorge sicuramente di questa caratteristica ci penalizzerà invece lui ci dice che le ha messo in modo naturale quindi notare anche queste finezze tuttavia la formattazione è stata pensata per rendere la lettura più piacevole coinvolgente ottimo a questo punto sfida più difficile lo puoi ampliare arrivando a mille parole mantenendo sempre lo stesso stile e ci dice di sì ed ecco che parte guardate quanto scrive adesso non lo leggiamo perché altrimenti ci vorrebbe troppo a questo punto si è fermato a un certo punto a volte succede gli ho detto continua e lui continua benissimo a questo punto si è fermato gli ho chiesto quante parole hai scritto mi dice 798 a gli ho chiesto perché non mille la richiesta era mille mi dice mi dispiace mi sono distratto dal mio obiettivo originale di scrivere mille parole farò del mio meglio per completare la lunghezza desiderata quindi ok quindi prende atto che ne ha scritte 800 circa e non mille allora gli chiedo mi puoi aggiungere altre 200 parole così posso arrivare a mille lui certo con piacere ecco altre 200 parole notare che lui riparte dal punto 6 che era esattamente il punto in cui si è fermato prima vedete ha iniziato 1 2 3 poi si era fermato gli ho detto di riprendere completa il 4 e il 5 si ferma e a questo punto ricontinua esattamente dal 6 e il 7 e poi l'8 il 9 il 10 benissimo a quante parole siamo arrivati in tutto adesso adesso l'articolo è lungo 947 parole quindi direi che molto vicini all'obiettivo di mille ora non è che devono essere necessariamente mille anche perché per far poi tornare un discorso esattamente con mille parole è difficile quindi direi che chat gpt ci può essere d'aiuto per scrivere ad esempio un blog vedete in questo caso abbiamo un piano editoriale di 30 punti quindi per la durata del di un mese e possiamo chiedergli di andare a scrivere esattamente tutti questi tutti questi articoli anche se io non conoscessi niente di questa materia ora io nello specifico ho scelto la cyber security perché mi occupo di cyber security tra le altre cose quindi conosco molto bene l'argomento e volevo effettivamente verificare la correttezza di quanto scritto e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro soprattutto anche nel cambiamento di tono renderlo più scherzoso più personale ecco voi potete ampliare questo concetto a qualsiasi tipo di argomento volete scrivere un blog di cucina chat gpt vi potrà aiutare volete scrivere un blog dedicato agli sportivi potete farlo quindi un blog di qualsiasi di qualsiasi tipo ovvio che poi volendo voi potete prendere ciò che viene scritto modificarlo renderlo ancora più personale quindi questo non vuol dire affidarsi completamente solo a questo strumento automatico però sicuramente ci dà un grosso aiuto bene detto questo siamo arrivati alla fine della sfida di oggi vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace se questa tipologia di video effettivamente è di vostro grandimento bene alla prossima e ciao